Perfetto, riprendiamo da Velen Avevamo detto che volevamo Esplorare questa zona qui Per cui Da qui Andiamo verso Andiamo verso questa casa E poi seguiamo la strada Andiamo Anche se probabilmente potrei Potrei fare un'altra cosa in realtà Viaggiamo col giorno Ok Andiamo La casa era questo Per cui possiamo Tranquillamente scendere Qui Che ti serve? What's the matter? Woodland spook Duntuk me mare The other night And there I was So content The war had spared her A woodland spook? Aye As me forefathers told it Comes at midnight Sprinkles blood on your threshold So as none will wake Then it steals Uh Would you search out me mare for me Chat with the wood dweller Perchance he'll give her back How much will you give me if I find your horse? Give you a fifth of vodka Sound all right? It'd sound fine if you changed that fifth to five Then added jugs at the end Then offered me the equivalent in crowns Well Fine Have it your way Just bring her back She's a grey mare mind you None too large Even spooks leave tracks Let me look around See if I can find some Okay Hmm Drops of blood Had my doubts Another track Eh Avrà attraversato Ecco qua Branco di lupi E qua Grincia Grincia No closer Nothing here for you Vatgern Gotta take one of the horses back to its owner You sound certain But should you be? What now? Will you kill what remains of our unit for one old nag? You'll kill it to me Willingly Take one horse That I'll allow I'll kill you for that Gideon What's up, mates? War War Andiamo Spero che il cavallo Sia questo Nel recinto Nel recinto Aspetta Certo che ho già risolto What do you say What do you say Sir? Is this your mayor? Ah, I'd recognize her anywhere Come on jumper You've got some explaining to do Where do you wander off to anywhere And here's your sir That's agreed Thanks So long Arrivederci Andiamo per di qua Non c'è niente Non c'è niente Non c'è nulla Ok Disabitato Per cui Qui non c'è nulla Questo l'abbiamo fatto Disabitata Andiamo Verso qua Eeeh Di qui I rubi Lasciamo Limpaggio Oh Da qua è in là Ok Cosa abbiamo qui? Nulla di importante Allora Seguiamo questa strada Possibile lanci nulla Alla fine della strada Time to move on Ok Perfetto Qui non c'è nulla Potrei tagliare per di qui E andare verso questa strada E di qua Perfetto Appunti di un bandito Dicano che non si può catturare un elfo in un bosco Invece si può Basta impegnarsi La propria vivente è nel nostro campo Un arciere degli scogliatella Va bene Liberiamo il tizio Qual è il campo qui vicino? Un mercante Il campo più vicino E potrebbe essere Non lo so Di qualsiasi ti seguo Perché non so qual è il campo più vicino Perché il campo più vicino Perché il campo più vicino Io ti seguo Salve 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 Tutto tutto Ammazzato Let's go Wow There Roach Slow now Sta raggiungendo la strada principale Allora Adesso ah mio questo campo mi cago visto questi sono i tuoi amici mi sa di sì biglietto hanno cattato c'era lo tengo in cateto con un caldo e bandito tutto il giorno è quello che abbiamo liberato ok cos'è questa carina ma non mi interessa questo ne compriamo uno abbastanza per il resto non vendi nulla vabbè ed era sulla strada principale per fortuna vabbè e ritorniamo con la condizione di bandito è sposa ah ho perso questa cassa proprio sì va bene e quindi torniamo qui no no che faster, piano piano scusa sì questo l'abbiamo già visitato quindi scendiamo giù mappa possiamo scendere direttamente per di qua no non scendete a cavallo vai andiamo per di qui allora oddio mio che c'è qui allora andiamo a destra ok 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 posso cliccarci ok 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 Oh. che pizza Ok Ecco l'acqua il tesoro Vieni, rutito Per cui questo Io andrei Tranquillamente verso qui andrei io, per esempio Vedete se c'è qualcosa Giro Grazie 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 In queste parti Sembrerebbe non esserci nulli 34 Con la faccia che non c'è nulla Marca miseria Eh, rutillo Mi è stancato Andiamo Via uno Upp Upp Qui un'altro Qui un'altro ancora Ok Quindi questa è una zona un po' più alta Questo è livello 20, è livello 34 Ok Andatemi il cavallo A livello 34 mi sembra un po' troppo eccessivo Dai Ok Torniamo indietro Immaginavo che saremmo andato a finire così E ma se Andiamo per di qui Aspetta un attimo Mappa Mappa quindi Girato Girato Abbiamo tagliato di qua Abbiamo visto qua Abbiamo visto qua Siamo saliti di qua Siamo scesi Sbagliato Siamo Scesi per di qua Tagliato per di qua Girato un attimo qui Saliti per di qua E adesso andiamo Verso quelle strutture lì Vediamo cosa c'è Livello 34 Arachnide Nooo Quei sono brutti Sì Nooo 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 Non Nooo Però alza un miramento Capito ma no Bastardo Bastardo di nuovo Tutto te che non ti vedo Eh la vedo brutta Oh Quindi tutto questo è un villaggio Edel Come che voglio Ho salvato la vita Non c'è un mercanto Un qualcuno Ci dovrebbe essere un erborista Ci dovrebbe essere Mettiamo qua dentro Caspiterina È l'esborista A Non lo sapevo che era stato liberato Allora, non è nulla Qua non c'è nulla E qua non c'è neanche nulla Questa grotta? Ah no, non è una grotta Uh, il volvo, il volvo, più di uno E? Sì 3 Un altro Ma che cacchio Tutti qua spawnano poi dall'altro Mi sa più di bug No forse non era un bug Qua ce ne sono altri Non è bene Qua ce ne sono mai 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 Ok Ma perché hai posato Ma veramente Guarda dove è Oh yeah Ehm, fin Ok Ma che razza di cosi Oh ma che boletta Porca 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 Mi sa che è sempre come quello di prima Eh si Eh ci voleva pure un grifano Io è il 39 No E' giù E secondo me stai morendo In volo Perfetto Sanguinamento C'è qualcosa qui nella tana? No Qui Uh Lettera al cognato Carissimo cognato La mia mano trema tanto Che mi auguro tu riesco a decifrare la mia scrittura Finalmente la vecchia Krautsmann è schiattata Lo so, non è bello ci vedere molto tra tuoi Ma quella gallina era una vera stranza Non piaceva a nessuno Nemmeno un po' Perché scrivo di lei allora? Perché pare che abbia una scorsa Qualche parte un bel gruzzolo Ok, quindi parliamo Ah, però non me la segna come Missione Eh, questo momento che ho visto Questa sera scendono Nella sua cantina E do a dare un'occhiata Tu prendi tua moglie Avvero mia sorella Perciò trattala bene Vai a Stachery Vabbè Il prima possibile Ci compreremo una bella tenuta E berremo Mangiamo più Chi è? La gente dice Fommoso infesta la capanna di quella strega Un villaggio Abbiamo soltanto Caracasotto Perciò non mi fido molto delle voci Stacher Stacher Un bel genere Un po' Qui in zona Se c'è qualche cosa Pazzo Spure che Ha a che fare con Sta zona qui Magari Oppure Ci c'è qualche cosa Ecco No Come è chiuso Che pizza Serve una chiave Però qua non c'è nulla Non c'è Vabbè Andiamo per di qui No Che sarebbe la torre Qua non so se ci sono stati Ok Andiamo qui Non so se c'è qualche cosa Anzi entro Ok Vabbè Ehm Mappa Ehm Io andrei Qui Per cui C'è un Ok C'è qui Il passaggio C'è qui C'è qui C'è qui C'è qui Eeeh... Non mi dite che è la chiave che apri là? Eh, lo sapevo io! Ok, buono! Eeeh... Ok... Eeeh, ho visto un altro qua... Ok... Altra zona è liberata e abbiamo un mercante Dimmi che vendi qualcosa di bello Eeeh... Eeeh... Di quello 19 161, 160, 929, 728 E vendo questo, sono le stesse Armato acciaio, armato acciaio Eeeh... Vendo questo No, non ho capito Io su quest'arma mi indossa... Ma che cosa stai dicendo? Ma cosa da pazzi? Eeeh... Questa qui andiamo Facciamo un'altra strada Facciamo Eeeh... Eeeh... No, sbagliato... Eeeh... 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 Qua... Olai... Maria... Eeeh... 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 Qua... Ehh... Eeeh... Qua... Eeeh... Io qua mi fermerei Perché secondo me Qua io ci arrivo per qualche missione Ci arriverò troppo grande questa zona Posso fare queste, posso fare le caccia al tesoro Guarda un'altra, invece la soglia No Allora, possiamo No vabbè, finiamo il video così, finiamo E possiamo il video, vediamo un attimo Il da farsi